radio radicale nuovo appuntamento con le nostre interviste filosofiche siamo oggi in collegamento con un ospite molto importante professore emerito di scienza politica all'università di bologna e curatore di un libro per tre cani che si chiama fascismo quel che è stato quel che rimane il nostro ospite è Gianfranco Pasquino e lo salutiamo ben trovato professore grazie dell'invito sono qui pronto allora professore c'è un fascismo storico quello italiano del ventennio ma fascismo è spesso usato anche come sostantivo comune per intendere una certa postura politica lei nella sua introduzione identifica tre elementi strutturali al fascismo italiano nazionalismo senso di comunità e antiliberalismo la prima domanda che voglio farle è questa sono sufficienti questi tre elementi per riconoscere una postura fascista o c'è dell'altro per dire ecco un fascismo oppure oggi ecco un nuovo fascismo allora se fascismo si riferisce a un regime bisogna individuare gli elementi compositivi del regime se fascismo sono i comportamenti delle persone allora bisogna andare oltre bisogna naturalmente dire che si tratta di sopraffazione di prepotenza di senso di superiorità di discriminazione il fascismo è il discrimina tra coloro che stanno con lui e i suoi oppositori tutti quelli che non stanno cioè tutti gli altri anzi si bea come lei sa di avere molti nemici molti nemici molto onore però io ritengo che sia opportuno dire che ci sono comportamenti fascisti che possiamo riconoscere uno dei quali naturalmente sta nell'anti femminismo che sta in tutta una serie di comportamenti che riguardano i diritti delle persone e poi il fascismo come come regime e questo secondo me il punto fondamentale possono esserci molti fascisti senza guinzaglio in un paese ma il paese può continuare a essere più o meno felicemente una democrazia per parlare di questo che lei adesso ha chiamato comportamento io prima ho parlato di postura nel suo interessante capitolo marco tarchi parla di ideologia lei invece parla di mentalità fascista qual è la differenza tra ideologia e mentalità in che modo lamenta la categoria della mentalità è meglio spendibile per leggere il passato e il presente perché l'ideologia dall'idea di essere qualcosa di molto ben delineato di molto ben costruito è anche di molto rigide rigido che si presta di interpretazioni chiarissime dicendo questo è ideologicamente quello che vorremmo e questo invece contro quello che ideologicamente noi desideriamo fare attuare sentire e così via le mentalità sono invece più diffuse nel corpo diciamo della cittadinanza sono alcuni elementi che peraltro fanno la loro comparsa anche dentro l'ideologia c'è una mentalità familistica c'è una mentalità nazionalista c'è una mentalità religiosa che alla fine che trae elementi dal cattolicesimo ma poi alla fine va per conto suo queste sono delle credenze direi così la mia in mio uso del termine mentalità deriva da un grande studioso spagnolo nato in in germania ma di origine spagnola e poi naturalmente parlava benissimo spagnolo che è juan linz che utilizza questo termine esattamente in opposizione all'ideologia perché l'ideologia negli anni in cui scriveva fra l'altro era l'ideologia fondamentalmente sovietica marxista dirò così anche se si può discutere se sia esistita una ideologia nazista e la mia posizione che probabilmente sì e che viene espressa da un lato attraverso la lettura del mein kampf la mia lotta di hitler c'è tutto quello che il fascismo che il nazismo avrebbe fatto e dall'altro c'è un interprete ufficiale di quell'ideologia che è la vera voce del nazismo quella che definisce che cosa si può fare che cosa non si deve fare lei adesso ha fatto riferimento al nazismo nel suo articolo lei scrive che il movimento fascista ha avuto a differenza del nazismo ambizioni totalitarie senza però mai riuscire a istituire un regime totalitario cosa che riuscì invece al nazismo scrive anche che il partito fascista ha avuto poca autonomia e poco potere cosa è mancato al fascismo per essere ciò che noi volgarmente lo riteniamo c'è un regime totalitario e qual è la differenza tra autoritario e totalitario è comincio di lì naturalmente su questo c'è un ho avuto uno scontro che non è terminato con emilio gentile che continua a usare in maniera casuale ma ma è abbondantissimo in totalitario perché sembra che avendo lui studiato un regime totalitario è molto più importante di avere studiato un regime autoritario questo è un errore clamoroso dovremmo chiedere gli storici qualche volta anche di una qualche pulizia concettuale di guardare che cosa ha fatto la scienza politica per quello che riguarda i regimi il fascismo tentò di diventare un regime totalitario e la fase che deferisce certamente lui un grandissimo storico del fascismo chiamò la fase per l'appunto di nel fascismo movimento quel movimento cercava di controllare tutta la società italiana non gli riuscì non riuscì a controllare la chiesa cattolica e dovete andare a concordato ai partiti italiani mensi non controllo mai l'esercito resistito rimase sostante le forze armate rimasero sostanzialmente savalute non riuscì neanche a controllare la burocrazia perché una burocrazia lenta pigra retrograda non è necessariamente fascista non riuscì a controllare industriali che invece lo usavano ai loro fini di controllo dei sindacati di istruttore dei sindacati controllo degli operai e alla fine come abbiamo visto neanche controllo la monarchia c'è un regime totalitario non può mantenere al suo interno una monarchia con il potere addirittura di poi di dare di imporre a mussolini a sua eccellenza il cavalier benito mussolini di dare le dimissioni non esiste quindi fascismo nella seconda fase un fascismo non più movimento ma regime ma fu semplicemente l'ha presa dato l'accettazione che il totalitarismo non era riuscito a costruirlo però autoritario è la parola giusta allora autoritario è la parola giusta anche in questo caso prendo le mosse da nince che insisto è stato un grandissimo studioso che dice che la differenza tra il totalitario e l'autoritario che nel totalitario c'è un elemento in questo caso il partito che controlla tutto che controlla e licenzia licenzia nel senso che consente l'esistenza di alcune associazioni e di distrugge quelle che non gradisce di solito le distrugge tutte e poi licenza associazioni che sono vicine al regime cioè la componente centrale del regime e il partito che decide tutto e mentre nell'autoritarismo rimangono una serie di gruppi c'è quello che l'inzio chiama il pluralismo limitato non responsabile e non competitivo gruppi che hanno uno spazio di autonomia che sanno che lì devono rimanere che non entrano in competizione con gli altri questa è una distinzione utilissima perché oggi possiamo dire che la cina è un regime totalitario e mentre la maggior parte dei regimi non democratici nel resto del mondo sono autoritari con delle differenze naturalmente oggi abbiamo tutti capito che le forze armate sono sempre responsabili per il mantenimento la preservazione di quel regime e se vogliono lo possono fare cadere in qualsiasi momento spesso non vogliono perché sanno che governare è un'impresa molto complicata parliamo del consenso che ebbe il fascismo nei video risalenti al ventennio tipicamente dell'istituto luce siamo soliti vedere pian piazze gremite di gente che acclama e siamo soliti pensare che il regime fascista contasse sull'appoggio e sulla fede orizzontale di tutta la popolazione lei invece rimarca chiaramente ruolo della media borghesia e dei grandi industriali quindi il fascismo era tutt'altro che un movimento dal basso come si raccontava e peraltro gli industriali quando ci fu da saltar giù dal carro non ebbero nulla da ridire contro la defenestrazione del duce su quale tipo di fondamenta di consenso contava il fascismo anche in questo caso è utile ricorrere a quanto ha scritto renzo de felice che intitola il volume sul fascismo grosso modo su mussolini perché la sua è fondamentalmente è un auto è una biografia di mussolini nel periodo dopo la conquista del dell'impero cioè dopo il 1936 dopo la dichiarazione dell'impero dovrei dire come gli anni del consenso però qui c'è un problema che questo consenso deve essere in qualche modo misurato e allora quello non è necessariamente un consenso attivo lei faceva riferimento alle piazze tumultuanti e così via ci sono anche queste piazze durante il fascismo ma sono convocate di non molto di frequente cioè in alcune occasioni eccezionali la dichiarazione della guerra alla francia è una di queste occasioni la celebrazione dell'impero quando hitler visita roma e qui forse la fonte migliore rimane il film di scuola una giornata particolare però il fascismo non si impegna troppo nella mobilizzazione delle masse quello che gli importa è che ci sia una non opposizione quello che io chiamo il consenso passivo cioè non facciamo opposizione perché sappiamo che rischiosissimo perché tutto sommato un po di ordine fascismo lo garantisce perché noi sostanzialmente non siamo toccati da da nella nostra libertà ne avevamo poca non non ce ne interessa più di tanto non non dobbiamo necessariamente costruire organizzazioni politiche c'è un consenso passivo che che possiamo misurare in maniera come dire inadeguata guardando alle varie zone del paese guardando all'esistenza o meno di oppositori che riescono ad avere udienza dai dai loro concittadini però complessivamente certamente il fascismo ebbe un po di consenso ma non siamo in grado di dire se fu un consenso maggioritario anzi azzarderei che non fu mai un consenso maggioritario ma che si elementava di una vastissima zona grigia nella quale nessuno in realtà voleva attivarsi contro il fascismo per timore delle rappresaglie per timore delle conseguenze è interessante notare come il punto debole del regime fascista cioè la sua incapacità a farsi regime totalitario abbia permesso una seppur minima continuità non solo delle istituzioni ma anche delle persone compromesse con il fascismo che dopo la caduta del regime di mussolini hanno potuto ricoprire funzioni di responsabilità dico bene è stato questo no dice bene però tutto questo è molto discorso e anche anche molto discutibile e come lei sa gli accademici non si citano fra di loro perché non vogliono dare visibilità agli altri però questa volta devo citare quantomeno il resto carri della loggia ma solo perché capita esserci un suo quasi editoriale il corriere non lo mette sulla sinistra come editoriale ma lo mette in prima pagina sulla destra come un intervento qualsiasi come se i carri della loggia fosse un collaboratore qualsiasi carri della loggia dice qualche cosa di sbagliato e cioè fa notare che tutto sommato era bene così che questi ex fascisti entrassero bene nel nel sistema che i costituenti addirittura bollono questo con la famosa disposizione transitoria finale e che si è dodicesima disposizione la verità no che non è così c'è il problema vero e qui questo è il punto rilevante che segnala che il fascismo non fu totalitario che dopo il fascismo tutte le associazioni che non vi si erano opposte perché la chiesa non si oppone al fascismo tranne che quando penetra nei suoi territori perché le forze armate non si oppongono al fascismo il primo primo ministro dopo l'apertura del fascismo addirittura un generale bad generale piemontese savoiardo direi così il generale badoglio anche il re però faremo meno perché c'è un referendum e quindi manda via lui e la sua corte industriali alcuni loro erano anche stati fascisti fondamentalmente però queste associazioni non vengono meno e al loro interno mantengono quelli che erano stati fascisti un po perché era il compagno di banco del burocrati un po perché era il coinquilino che tutto sommato in quella edificio si comportava bene con noi un po perché era un prete che certamente era stato fascista ma tutto sommato non è che possiamo eppurare anche i preti costoro mantengono le loro cariche anche perché dopo il fascismo c'è competizione il numero conta come possiamo escludere un grande numero di coloro che nella nostra chiesa sono stati fascisti che nella nostra burocrazia sono stati fascisti che erano fascisti all'interno delle forze armate non possiamo perché il numero conta e poi perché in fondo sono con noi tutto sommato e così via e quindi non c'è nessuna eppurazione vera naturalmente sappiamo che lo stesso dogliati collabora questo eppurando fondamentalmente un numero molto limitato di persone non è così in altri paesi quando crolla il totalitarismo l'epurazione o se volete l'esclusione immediata e totale dopodiché si aprono praterie per colono che sanno riorganizzare la loro politica nel caso dell'unione sovietica li chiamiamo oligarchi non a caso sono pochi forti hanno usato del loro potere per acquisire risorse e adesso decidono chi sta al vertice della Russia ora le vorrei proporre due luoghi comuni triti come tutti i luoghi comuni ma rispetto ai quali vorrei una sua idea allora il primo i nostalgici sono soliti affermare che il fascismo ha fatto anche cose buone e sempre più storici accettando la sfida che viene da questo luogo comune si incaricano di affermare che certo mussolini ha apportato anche delle innovazioni che ancora oggi consideriamo benefiche è così quali sono queste innovazioni ha fatto anche cose buone il fascismo e stabilire che cosa è una cosa buona cioè la bonifica di territori paludosi è una cosa buona ma l'ha fatto il fascismo e qualsiasi altro regime cioè se fosse continuata la liberal democrazia italiana non avrebbe bonificato quelle zone certamente sì io non so se i treni arrivavano davvero puntuali allora però certamente c'erano ce n'erano molti meno e c'erano anche molto meno viaggiatori ma davvero un sistema liberale democratico non sarebbe stato in grado di creare una rete ferroviaria capace di far arrivare i treni puntuali tutto quello che vediamo gli edifici postali provveditorati che hanno sono ancora tipiche costruzioni fasciste in italia degli anni 20 e 30 avesse avuto un governo liberale democratico non le avrebbe fatte certamente sì solo con ma forse con qualche maggiore difficoltà qualche volta ma non a scapito della libertà dei cittadini quindi quelle cose buone quella modernizzazione è un prodotto di cambiamenti socio economici che sarebbero comunque avvenuti e quello che conta naturalmente che avvengono sotto la sotto l'imperio di qualcuno che dall'olio di ricino ai suoi centinaia di oppositori manda al confino importanti mi mette in galera mi fa morire in galera il secondo luogo comune invece sostenuto dai detrattori si dice che la democrazia liberale è fondata sull'inclusività sulla tolleranza rispetto a tutte le differenti posizioni culturali sociali politiche tutte tranne quelle che si fanno portatrici di intolleranza quindi tolleranti con tutto tranne che con gli intolleranti la domanda è questa la democrazia non è abbastanza forte da affrontare una voce intollerante una forza in senso ampio fascista e di metabolizzarla di digerirla di e di scartarla la democrazia deve escludere a prescindere e a priori una simile forza se non vuole correre il rischio di soccombere l'esclusione a priori non può essere perché la democrazia deve essere aperta anche al conflitto però deve portare delle regole al conflitto c'è la democrazia deve escludere tutti i gruppi che agiscono attraverso la violenza l'uso delle violenze il ricorso alla violenza questo non può essere tollerato in nessuna democrazia deve sapersi difendere da questo e quindi avere le risorse le strutture adeguate per tutto il resto vale sempre la frase famosissima di voltaire io difendo la tua libertà di espressione anche se dici cose che sono sostanzialmente l'opposto di quello che io penso l'opposto di quello che si deve fare in una società tellorante rispettosa questa è la che la libertà di parola ti consentono la libertà di parola anzi dopo il scontato che tu abbia libertà di parola anche se dici delle cose assolutamente contrarie le mie diverso naturalmente è la libertà di scorrazzare per le strade di picchiare i passanti di uccidere e così via questa è una cosa diversa la democrazia e può essere inclusiva anzi in senso lato è inclusiva cioè accetta tutti però le democrazie reali devono fare i conti con coloro che ricorrono alla violenza per sovvertirle e questi conti devono essere regolati dalla costituzione dalle leggi e poi dall'esistenza di apposite strutture che sono le strutture di polizia le strutture di strutture militari e naturalmente il giudiziario paolo bagnoli nel suo capitolo fa riferimento a una radicata psicologia del popolo italiano che demanda la soluzione dei problemi a chi pensa li possa risolvere la soluzione del salvatore della patria è qualche cosa che ci accompagna da sempre e che non possiamo sradicare da dal nostro spirito diciamo ma certamente qualcuno cerca se cerca il salvatore della patria c'è stato un grande libro di un famoso studioso tedesco eric from fuga dalla libertà abbiamo paura della libertà qualche volta perché ci impone delle scelte delle scelte complicate e se qualcuno sceglie per noi accettiamo questo qualche volta anzi siamo molto contenti di questo però nulla di questo è dedicato in nessun popolo attribuire ai tedeschi la loro come dire disponibilità a seguire un leader è più o meno carismatico in assoluto mi pare esagerato c'è un insieme di elementi che spiegano l'ascesa di hitler e non soltanto la psicologia delle masse che qualche volta hanno qualche tendenza in questo senso ma tutto questo discorso deve essere maggiormente elaborato no gli italiani non sono necessariamente e il carattere nazionale mi lascia sempre perplesso non sono necessariamente inclini a dare potere ad un uomo o ad una donna e senza discutere di quel potere discutere dei limiti di per potere così via ricordo che la prima fase della del sistema politico italiano quello che tra 1861 al 1921 lo dirò così non è caratterizzato dall'uomo forte giolitti giovanni giolitti è un grande politico ma non è un uomo forte forse lo era crispi ma durò durò poco in carica la destra storica e racista storica hanno persone che sono dei sinceri democratici e che non penso di dover trascinare un popolo verso vette altissime di creare una nazione superiore alle altre e di avere a fare a che fare con cittadini che sono migliori necessariamente di tutti gli altri no questo non esiste è un'invenzione un'invenzione pericolosa è un'invenzione qualche modo come dire accettata da alcuni ma certamente non dalla maggioranza degli italiani in conclusione parliamo degli anticorpi ne abbiamo già un po fatto cenno quindi una domanda che lei di fatto affronta nell'ultimo capitolo del libro il fascismo può ripresentarsi quali potrebbero essere le condizioni per un risorgimento fascista come si presenta oggi il fascismo e quale e qual è la salute della democrazia del mondo nel mondo rispetto a questo come sta la la democrazia ecco il fascismo come l'abbiamo conosciuto cioè come una sfida e poi come un regime nel contesto italiano non può ripresentarsi mai più è il prodotto di circostanze di avvenimenti che non sono più presenti e soprattutto che vengono già contrastati dall'esistenza dell'unione europea e che certamente un ostacolo insuperabile all'emerge del fascismo e non dare del fascista d'Orban per esempio è un leader autoritario che sfrutta tutte le risorse sulla sua disposizione le possono riemergere delle sfide alle democrazie perché le democrazie qualche volta non riescono a risolvere i problemi e qualche volta c'è una capacità di degli oppositori delle democrazie a organizzarsi in maniera adeguata però anche su questo va detto che sento dire che la democrazia è finita la verità è che naturalmente che non è così io di solo dico non tanto scherzando di chiedere se la democrazia è finita di chiedere agli studenti di hong kong di chiederlo a missis a un san su ci in birmania se la democrazia è finita vi chiederò alle ai cittadini di taiwan se la democrazia è finita risponderanno che la democrazia è il luogo dove che vogliono in alcuni casi che hanno frequentato nel quale vivono nel caso di taiwan quindi no direi di escludere questo dal discorso mi pare un discorso stupido e elitario lo decidono gli intellettuali che la democrazia da qualche parte è finita o che non può neppure attecchire e lasciamo da parte questo ci saranno sempre sfide però e ci saranno anche dei regimi autoritari però non sono fascisti il fascismo è un fenomeno storico che si conclude quel 25 luglio del 1943 o se qualcuno preferisce il 25 aprile del 1945 poi sfide autoritarie ce ne sanno ancora certamente ci saranno anche accompagnati da da qualcosa che chiamerei il folklore fascista qualche camicia di un qualche colore qualche atteggiamento marziale qualche esclusione di gruppi prevalentemente gli scusi sono coloro che non hanno il colore della nostra pelle e sono le donne naturalmente sono i settori più deboli però come dire sventolare il pericolo fascista la minata fascista non mi pare una buona strategia per sconfiggere gli autoritarismi per sconfiggere le sfide le sfide di coloro che non gradiscono che il numero sia in grado di produrre le maggioranze e che devono essere i migliori no non è così in democrazia ci si conta come dicono gli inglesi le teste si contano e non si tagliano come diceva calogero non si spaccano in democrazia ci si conta le teste per non spaccarsele un'ultima domanda se il fascismo come abbiamo detto all'inizio ha nella sua struttura l'antiliberalismo un antidoto al fascismo potrebbe stare nella democrazia liberale che cosa significa prendersi cura della democrazia liberale in un'epoca in cui non solo dal lato autoritario ma anche da quello progressista si rivela si rilevano i punti deboli e problematici del liberalismo a suo avviso dobbiamo portare cura democrazia alla democrazia liberale o non sarebbe meglio una cultura repubblicana questa domanda molto complicata credo che il repubblicanesimo non potrebbe esistere se non fosse esistito e non esistesse ancora oggi il liberalismo qui però bisogna intenderci bene sul liberalismo perché spesso si pensa si parla di pensiero liberale no il liberale il liberalismo è fatto di due componenti di due insieme di componenti da un lato i diritti i diritti civili e i diritti politici questi sono cruciali se volete un accesso d'evocazia naturalmente bisogna aggiungere i diritti sociali ma anche i liberali sono in grado di accettare una parte dei diritti sociali e dall'altro tutto quello che riguarda uno stato o se volete la politica e ciò deve esserci separazione delle istituzioni giudiziario legislativo esecutivo deve esserci la possibilità di avere freni e contrappesi checks and balances l'espressione classica degli anglosassoni che sono i veri inventori del liberalismo deve esserci la possibilità di rendere conto di chiedere conto dell'operato ai governanti anche in questo caso la parola inglese accountability senza senza questo non abbiamo uno stato liberale che naturalmente non è necessariamente solo uno stato nazionale questi elementi devono esistere anche a livello sovranazionale dell'unione europea questo è il liberalismo se vogliamo aggiungersi del repubblicanesimo dal non basta la libertà da ma bisognerebbe trovare le modalità anche della libertà di capisco questo dibattito non credo che sia ancora sufficientemente avanzato il mio uno dei miei maestri forse tutte e due vale a dire sia bobbio che satori aggiungerebbero in maniera chiarissima che il liberalismo nelle negli stati contemporanei non può che essere costituzionalismo questi diritti e queste istituzioni devono essere sani presenti e sancite nelle costituzioni naturalmente sappiamo e chi non lo sa io lo dico adesso che la grande democrazia liberale della gran bretania non ha mai avuto una costituzione che è scritta nel senso che ci si attiene agli atti del parlamento ci si attiene alle alle sentenze della magistratura e soprattutto a quel piccolo elemento che che si chiama tradizione non abbiamo mai fatto questo e se nessuno dice perché dovremmo fare diversamente non lo facciamo it is simply not done c'è qualcosa che non si fa io tradurrei tutto questo che c'è una decenza politica quando gli inglesi dicono quite decent vuol dire che è molto buono è una decenza politica che fa parte di una tradizione liberale tutto questo si può imparare si può insegnare a proposito dell'esportazione della democrazia e molti lo hanno imparato e anche molti lo hanno insegnato naturalmente portare questo sulla punta delle baionette per usare un'espressione fascista non è il modo migliore per esportare la democrazia però riflettere su tutto questo è possibile viene fatto se vogliamo andare in una direzione diversa bisogna apportare elementi nuovi significativamente originali non ne vedo abbiamo terminato il nostro tempo abbiamo parlato con gianfranco pasquino curatore del libro per tre cani fascismo quel che è stato quel che rimane grazie molto professore grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato e alla prossima